Salve amici del Centro Medio Italiano. L'esteso campo di alta pressione di origine africana continua a dominare il comparto mediterraneo favorendo generale stabilità. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 9 maggio. Al mattino molte nubi in transito al centro e sul Piemonte ma senza fenomeni di rilievo, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile da nord a sud salvo possibilità di locali acquazzoni sull'Alto Adige. In serata è notata tendenza ad un generale aumento di nubi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Bentempo altrove salgo brevi piogge sulle Alpi nord-orientali. Le temperature minime sono attese in aumento mentre le massime sono stazionarie. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrumet Italiano.